Lui a un certo momento tentò anche di commuovere il magistrato dicendo voi state tagliando il colluccio a un povero agnelluccio è assolutamente geniale nelle sue manifestazioni scrive, disegna Il quadro è una vista di Badia Passignano una località molto bella che c'è tra Firenze e Siena e in primo piano ci sono sette alberi gonfi di frutta che riversano a terra un'ombra inquietante molto particolare perché è un'ombra allungata gli alberi sono tondi, sono sette e quest'ombra è allungata che assomiglia un po' a un sarcofago a qualcosa di cimiteriale Il quadro a cui si fa riferimento è Sogno di fantascienza che Pietro Pacciani ha firmato cioè se ne è appropriato fisicamente e mentalmente tanto da titolarlo, da firmarlo, da localizzarlo perché in fondo ha aggiunto a penna Pietro Pacciani via Sonnino 30, Mercatale Val di Peso e l'ha titolato si è scoperto poi che il quadro era stato dipinto grazie al processo, alla pubblicità che è stata fatta sui giornali si è scoperto che era stato dipinto da un cileno il Pacciani lo ha recepito, lo ha colorato e ha aggiunto in fondo con la penna sei croci fra due vasi di fiori e poi ha cancellato, ha eliminato gli attributi femminili di quel bovino che era stato dipinto con quella lira tra le due corna nei due dipinti di Pietro Pacciani ci sono sei croci in quello che è datato aprile 1985 è probabilmente una suggestione ma a quell'epoca le donne uccise dal maniaco erano sei il secondo quadro, che è posteriore raffigura in primo piano questi sette alberi e sette allora erano le donne uccise il proiettile calibro 22 Winchester serie H lo stesso degli otto duplici omicidi è stato trovato nell'orto di Pacciani in una transenna che era stata appoggiata per dividere le colture che lui faceva nel suo orto il proiettile addirittura è stato scarrellato secondo la perizia che è stata fatta dalla pistola che ha colpito in tutti gli otto duplici omicidi grazie a tutti